La saggezza arriva comunque. Focilide 544 non si conosce la data del trapasso. Poeta elegiaco greco in sentenze dice Cercati i mezzi per vivere, la saggezza poi quando già ci siano i mezzi di vita. La saggezza arriva all'individuo comunque quando non ha i mezzi per vivere e anche quando li ha.